Dobbiamo fare un punto comune su certe questioni, come diceva Ezio se ce l'hai già la carta d'identità la metti nel trust è ok, ad esempio io quando ho fatto le autocertificazioni avevo la carta d'identità e il passaporto in scadenza, mi sono scadute e non le ho più rinnovate, perché? Perché facendo le autocertificazioni che ho fatto con la legale rappresentanza ho sistemato il trust che hanno creato all'atto della mia nascita e che gestivano loro, amministravano loro, pubblici ufficiali, di turno eccetera, con l'esistenza in vita invece mi sono dichiarata essere umano, ho firmato tutto quanto in piccolo, non è in alternato, è tutto piccolo e lì si differisce anche tra persona umana scritto in alternato e essere umano scritto tutto quanto piccolo. Ora per quanto riguarda, tu dici il passaporto, se devi fare qualcosa eccetera, e quello che ho fatto io e hanno fatto parecchie persone per convalidare l'atto che io sono andata a dipositare al comune, quindi quella è stata la mia presa di posizione, che io ho detto io, la nostra d'Italia non c'entro più nulla e non voglio avere niente a che fare con voi perché sono vittima di una truffa e di una frode legale e economica soprattutto, perché è tutto collegato al debito pubblico, i nostri nomi e cognomi che girano in obbligazioni americane. Ci sono le apostille della prefettura e della procura che avallano i documenti e tutti quelli che hanno firmato la convenzione dell'AIA, tutti i paesi che hanno firmato la convenzione dell'AIA, tu puoi utilizzare quel documento in tutti i paesi. È chiaro che se devi andare in un paese straniero, tu prima vai a comunicare al consolato che viaggerai con quei documenti, cioè tu li avvisi, perché comunque sono documenti che nessuno conosce, nessuno sa che cosa sono e quindi vai a dare una comunicazione, tutta al più, se vuoi stare tranquillo e goderti il viaggio. Quindi il fatto di, come dice Ezio, di andarti a fare la carta di identità è un controsenso, è un'incoerenza, perché? Perché quello che siamo andati a fare noi, l'autodeterminazione individuale, è proprio un autodeterminarsi fuori dallo Stato, quindi noi diventiamo, come me lo sono immaginata io, come ho visto io tutta la situazione, è che l'Italia fino al 2014 era composta la nazione, dallo Stato Italia, lo Stato del Vaticano e lo Stato di San Marino. Dopo il 2014 ci dobbiamo immaginare tanti piccoli Stati che si sono creati nella nazione Italia, io sono un piccolo Stato, Raffaele è un piccolo Stato, Ezio è un piccolo, siamo tantissimi Stati, quindi l'autodeterminazione individuale che poi può sfociare in un'autodeterminazione popolare, quando nel momento in cui, nello stesso periodo storico, molte persone fanno la stessa azione, diventa autodeterminazione popolare e quindi è consuetudine, cioè noi creiamo un nuovo, una nuova, una consuetudine, cioè un cambiamento storico a quelle che sono le leggi che fino ad oggi continuano ad essere in vigore, cosa che però sono collegate a una frode, perché tu mi crei la finzione giuridica, però me la amministri tu, cioè non me la posso amministrare io e quindi mi stai ingannando, perché non è che lo fanno in onore, non è fatto in onore, perché a me non me l'ha comunicato nessuno tutta questa storia delle finzioni giuridiche, della persona fisica e di tutto quanto, e sui libri di scuola non c'è scritto, io ho fatto ragionerie, tutte queste cose non ci stanno scritte. Hai annullato la testa dell'elettorale? La testa dell'elettorale, quando mi si sono finiti i timbrini, non voto più ormai da anni, quindi non ho annullato nulla, io una volta che mi sono autodeterminata allo Stato d'Italia non gli devo comunicare più nulla e loro a me non mi devono dar più fastidio, perché altrimenti anche a livello energetico non va bene, cioè ci sono degli squilibri, perché io sono molto, cioè la materia... Ma guarda che hai detto una cosa fantastica, cioè l'autodeterminazione è definita da Jean-Jacques Rousseau, che ha fatto il famoso contratto sociale che ad oggi tutti noi inconsapevolmente stiamo in qualche modo firmando mentalmente, perché ogni volta che rinnovi il discorso della cittadinanza, è sempre un contratto sociale, dice che con la volontà generale del singolo individuo si crea una certa libertà, cioè la volontà generale come si attua nel contratto sociale di Jean-Jacques Rousseau? Semplicemente con l'autodeterminazione del singolo. Questo significa che se tanti singoli individui hanno uno stesso scopo e sono autodeterminati senza condizioni esterne che glielo impongono, automaticamente tutto questo si attua, si attua per proprio una volontà generale che sia autodeterminata con il singolo e non per mezzo di un ente, addirittura lui le somma così le volontà generali, cioè se c'è un ente, faccio l'esempio, l'agenzia delle entrate mi viene in mente ma potrebbe essere la polizia, i carabinieri, le equitalie eccetera eccetera, che ha una serie di persone fisiche sotto, la volontà generale di equitalia è pari a 1, quindi se andiamo a sommare la volontà generale di equitalia è pari a 1, se invece andiamo a prendere il singolo autodeterminato che dice basta equitalia deve smettere di esistere, per questa ragione si appoggia tra virgolette per autodeterminazione un altro singolo individuo, si appoggia un altro singolo individuo e nello stesso tempo altri singoli individui approvano questa cosa per autodeterminazione inizia esserci una volontà generale di equitalia contro 5, 6, 7, 8 volontà generale di altri singoli individui autodeterminati e lì il sistema va in difficoltà. Grazie a tutti.